Il collegamento Scinderella-Fossa di Paganica sarà in realtà, dopo vent'anni si avvia l'iter, per la realizzazione della telecabina da dieci posti che collegherà la stazione scistica di Campo Imperatore, con partenza dalla seggiovia La Scinderella al bacino della Fossa di Paganica, area strategica. L'opera è ritenuta fondamentale per lo sviluppo del comprensorio perché permetterà di potenziare il turismo invernale, ma anche quell'estivo, realizzazione che è frutto dell'intesa tra comune e centro turistico. Il progetto iniziale è datato 1997, ma poi è stato rimodulato. Il privo finanziamento fu di 3 milioni, nel frattempo ne sono arrivati altri 7, ma altri tanti ne servono per completare l'intervento. Il progetto avrà come struttura a servizio il parcheggio di Monte Cristo e la viabilità della statale 17 bis. Tecnicamente è strategico perché garantisce pure un'ulteriore alternativa di sicurezza in uscita dall'altopiano di Campo Imperatore. Spiega perché è così importante questa infrastruttura il consigliere comunale con delega alla montagna Luigi Faccia, che da anni si batte per questo progetto, che finalmente sarà realtà dopo anni di polemiche e dibattiti. È importantissima perché intanto è il primo passo che il piano d'area fa dall'approvazione del lontano 2004. Quindi poniamo i primi paletti, le prime procedure e i primi termini in cui si presenteranno una serie di documenti per poi procedere alla gara per la realizzazione della progettazione dell'impianto. Ecco, tecnicamente quali vantaggi porterà l'uso di questa telecabbina al territorio? Allora, intanto la scelta della telecabbina va proprio, diciamo, incontro a quello che diciamo sempre noi. Gli impianti ormai non saranno più impianti di sci, saranno impianti di risalita a fune. Quindi la telecabbina servirà per dare servizio a tutta l'utenza. Quindi estiva e invernale, l'inverno per lo sci naturalmente e per il fondo, perché si aprirà un grosso bacino di fondo nella fossa di Paganica e soprattutto per l'estivo. Quindi trekking di media montagna, bike e poi diciamo anche, andiamo incontro anche alle esigenze degli anziani. Perché gli anziani non possono andare in montagna? Con la telecabbina ci si può. I diversamente abili perché non possono godere del panorama della cima, della scindarella per vedere tutto. Quindi è una serie di, è un'offerta che cambia, cambia. Quindi in prospettiva andremo a fare impianti di trasporto a fune per servire tutta l'utenza.